Benvenuti su notiziononclick.com, io sono Loredana per oggi martedì 21 febbraio per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicare. Nel corso della giornata iniziamo con un paio di editoriali del nostro titolo Alessandro Giorgnotti per non dimenticare l'editatore di ieri e di oggi, siamo in Albania. Italia Albania a fare il gol e subito l'amicizia, perché il 25 febbraio non sia un'occasione perduta veronese, pressione nell'uso della cassa integrazione, prima che sia troppo tardi. Per approfondimenti basta cliccare nella notizia all'estero, il Principato di Monaco vieta i residenti di entrare nei suoi casino. Ambiente, FD, contestare i cambiamenti climatici in agricoltura. Educazione finanziaria, Giorgetti, educazione finanziaria e strategica per indirizzare il risparmio. Questo e molto altro potete trovare su notiziononclick.com, io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna. Buona giornata, Loredana. Buona giornata, Loredana.